Sarete i primi, sarete i primi perché siete stati primi, è anche un'esperienza, ma soprattutto ripeto, dovete capire che queste cose sono vostre, sono vostre, fanno parte della città, fanno parte della vostra vita, cioè pensate che quest'opera sarà la prima cosa che si vede arrivando da Catania, quindi chiunque arriva qua ce la vuole, poi come dire, questa è la prima immagine, e sarà un'immagine di luce, l'opera si chiama Luz, quindi si comincerà a pensare al cielo, non come a un luogo cupo, ma come a un luogo di luce, quindi voi siete tutti precettati per un'opera.